E' trovati a questa nuova edizione del nostro telegiornale. Vediamo subito quali sono gli argomenti del giorno. In primo piano ci occupiamo di sanità e di modo particolare del punto nascita dell'ospedale di Sulmona. Il punto nascita è a corto di infermieri. In arrivo una unità in più. La ASL corre ai ripari dopo l'allarme dei sindacati. Affrontiamo questo argomento nel servizio di Andrea D'Aurelio. Da domani arriverà un'unità in più nel personale infermieristico del punto nascita dell'ospedale di Sulmona. Parola di Teresa Colizza, direttore sanitario aziendale della ASL Avezzaro su Muna L'Aquila. Nonostante il bon 30 registrato con più di 100 parti a fine maggio, nel reparto di ostetricia e ginecologia è venuto a mancare il personale. Su un totale di 8 infermieri previsti nella pianta organica, solo 4 lavorano a pieno regime. Da qui l'allarme lanciato dalla FPCGL della provincia dell'Aquila, che ha chiesto un incontro urgente con l'azienda sanitaria. Da domani arriverà un'unità in più. Siamo al corrente del problema e abbiamo già provveduto, annuncia il direttore Colizza. L'attenzione però resta alta dal momento che la carenza di personale resta alla patologia cronica dell'ospedale dell'Annunziata. Da domani nel reparto di ostetricia e ginecologia sarà rinnovato un infermiere con agenzia interinale a contrattore terminato per un mese. Dal punto nascita hanno chiesto altre due unità che non si sa se e quando arriveranno. Fra il personale fuori turno, quello in ferie estive, in concedo parentale e in malattia, si riesce con non poca difficoltà a coprire i turni. Se il punto nascita resta in pieno rilancio, le risorse umane non possono mancare. Intanto il Tribunale per i diritti del malato mette in guardia l'ASLA. No a parcheggi a pagamento nella nuova palazzina. Sentiamo tutto. Se ricevelo a pagamento nella palazzina che ospiterà gli ambulatori dell'ospedale, una volta svuotata dalla vecchia, lo fa notare il responsabile del Tribunale per i diritti del malato, Edoardo Facchini, che chiede spiegazioni all'ASLA Vezzano Sumona L'Aquila, il rischio secondo Facchini e che i parcheggi siano a pagamento. Noi ci siamo resi conto casualmente che i parcheggi nella struttura appena affittata con la delibera numero 415 del 10 marzo 2017 dalla nostra ASL, i parcheggi sono blu. Adesso siccome a noi risulta che i parcheggi blu sono a pagamento, almeno credo che lo prevede il codice della strada, ci siamo chiesti come mai, cioè se affittare una struttura pubblica da parte dell'ASL può comportare il pagamento da parte dell'utenza del parcheggio. La domanda ce la siamo posta, la risposta non ce la siamo ancora data. La palazzina è stata presa in affitto per 5 anni, secondo la delibera di marzo 2017, della ASL a Vezzano Sumona L'Aquila. Ieri è arrivato l'annuncio del direttore generale Rinaldo Tordera, che dal mese di luglio scatterà l'operazione Sicurezza, con il trasferimento di tutti quegli ambulatori che non richiedono l'assistenza ospedaliera. Guidava sotto l'effetto di stupefacenti e quando ha visto che gli agenti della polostrada di Giulianova stavano per fermarlo per un controllo lungo la provinciale 259 nel territorio di Sant'Egidio, ha tentato di gettare dal filestrino un involucro con 5 panetti di ascisce per un peso complessivo di circa 400 grammi. In manette è finito un cittadino cubano di 25 anni, residente a Folignano, nella provincia di Ascolipiceno, che viaggiava con un'altra persona, trovata a sua volta, con 2 grammi di marijuana in tasca. All'arrestato, la contestazione di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti e la denuncia per guida sotto l'effetto di droga. Ora si trova agli arresti domiciliari. Lasciamo questa notizia di cronaca, torniamo a Sulmona per occuparci del servizio di pulizia. Al comune di Sulmona si va verso l'aumento delle frequenze lavorative. In arrivo c'è l'apposita delibera di giunta, il servizio è di Andrea Daurelli. La giunta comunale adotterà nelle prossime ore la delibera per la restituzione delle frequenze lavorative e 12 dipendenti della cooperativa 2001 che gestiscono il servizio pulizia a Palazzo San Francesco per conto del comune. E quando è venuto fuori nel colloquio fra il sindaco di Sulmona, Anna Maria Casini e segretario della Filcams, CGL della provincia dell'Aquila, Luigi Antonetti, a margine del Sittin e dei lavoratori al Palazzo Municipale, gli stipendi arretrati sono arrivati nei giorni scorsi, dopo che il comune ha provveduto a saldo delle fatture alla cooperativa. Permane problema della riduzione delle ore e degli spazi lavorativi, ma da qui al 10 luglio, giorno della scadenza dell'ulteriore proroga, tutto dovrebbe risolversi. Almeno oggi delle rassicurazioni rispetto a ieri ci sono state da parte del sindaco che ci ha ricevuti, il quale ci ha illustrato che sempre nella giornata di oggi metteranno mano a questa delibera per mettere insieme una serie di pezzi che andranno a ridare, se non altro, a restituire ulteriori spazi aggiuntivi che potrebbero ridare un orario originario perché questi lavoratori è stato degurtato da marzo. L'attenzione resta alta sia da parte del sindacato sia da parte dei singoli lavoratori. L'argomento sarà oggetto lunedì prossimo di una conferenza capigruppo chiesta dal consigliere di Forza Italia, Elisabetta Bianchi. Nuovo look per l'auditorium del Palazzo dell'Annunziata di Sulmona riaprirà domani dopo i lavori di adeguamento sismico. Sentiamo tutto. Riapre l'auditorium del complesso monumentale dell'Annunziata nell'anno del bimillenario della morte del sommo poeta Ovidio. È tutto pronto per la cerimonia in programma domani pomeriggio alle ore 17 quando proprio nell'auditorium che torna agli antichi splendori prenderà il via l'altro video. La rassegna di otto appuntamenti che fino a dicembre rimetteranno al centro l'opera ovidiana vista da un'altra prospettiva sicuramente più contemporanea ed attuale. Riapriremo dopo i lavori che sono stati svolti dalla sovrintendenza che ringrazio che ha saputo ridare un tocco di modernità anche a questo spazio importantissimo all'interno di un complesso che è il centro della cultura, uno dei centri più importanti della cultura sul Mona. L'auditorium già a giugno avrà ben due appuntamenti, questo del 15 e il 24, un altro evento legato all'enogastronomia. È un momento importante, l'apertura di spazi culturali alla città è sempre un momento da festeggiare e quindi quale momento più solenne che dedicare questo momento ad Ovidio. L'auditorium dell'Annunziata era stato riconsegnato al comune di Sulmona dalla sovrintendenza dei beni culturali nel dicembre del 2015 quando era sindaco Peppino Ranalli. Mancavano solo alcuni lavori di completamento che sono andati a buon fine. Gli interventi hanno riguardato la messa in sicurezza e il rinnovo dell'auditorium per un importo complessivo di 2 milioni di euro. E partirà dunque domani 15 giugno la rassegna all'altro video Contributi moderni su tematiche senza tempo, come dicevamo nel servizio, organizzata dall'Associazione di ricerca Europa Sulmona, Ares Antonio Pelino insieme al comune e alla commissione organizzatrice di Ovidio 2017. L'altro evento invece in programma per domenica, il concerto a Villa Sofia per ricordare Antonio Pelino, il servizio è di Barbara delle Monache. Partirà domani la rassegna dal titolo L'altro video Contributi moderni su tematiche senza tempo, organizzata dall'Associazione di ricerca Europa Sulmona, Ares Antonio Pelino, assieme al comune di Sulmona e alla commissione organizzatrice di Corso Video 2017. Una rassegna in cui si daranno appuntamento i maggiori esponenti della cultura italiana i quali partendo dalla figura e dall'opera di Ovidio tratterranno temi estremamente inclusivi ed attuali. Primo appuntamento quindi per domani alle 17 presso l'auditorium dell'annunziata in Corso Video con la conferenza La logica del cambiamento perenne. Lezioni dalle metamorfosi di Ovidio svolta dai professori Giuseppe Zollo e Arturo Di Vivo dell'Università di Napoli introdotti dal professor Dario Simoncini professore di organizzazione aziendale dell'Università d'Annunzio di Chieti-Pescara. Precederanno i saluti del sindaco Anna Maria Casini e del presidente Antonino Crociata. Sarà una riunione importantissima dove verranno stigmatizzate proprio l'attualità del messaggio uvidiano dal punto di vista del cambiamento. Il cambiamento è qualcosa che ci coinvolge quotidianamente, è una cosa viva. L'altro video è un filone parallelo, una rassegna parallena a quella diciamo letteraria o legata a manifestazioni più classiche di natura culturale ma che vuole portare avanti dei contributi alternativi portando quindi la contemporaneità e la modernità di temi ovidiani su argomenti quindi di grande attualità. Un altro incontro di natura più indima è invece previsto per domenica 18 giugno. Ares infatti vuole ricordare il compianto presidente Antonio Pelino scomparso prematuramente lo scorso primo gennaio attraverso le musiche di Puccini, Bellini, Tosti, Piazzolla e De Curtis nel concerto per Antonio che si terrà a Villa Sofia alle 18.30. Ari e canzoni saranno interpretate dal giovane soprano sulmonese Chiara Tarquini accompagnata al pianoforte da Sabrina Cardone. Non mi rassegno a questo paese, a questa classe politica, ad uno Stato assente. L'ho promesso a mia figlia quando il destino volle che fossi proprio io a trovarla morta tra le macerie. Lo ha detto Antonio Morelli, papà di una delle vittime del crollo della scuola di San Giuliano di Puglia nella provincia di Campobasso in seguito al terremoto del 31 ottobre 2002 nel corso dell'evento Patto per l'Abruzzo che si è svolto a Pescara. Iniziativa questa per lanciare un'iniziativa che ha al centro la sicurezza delle scuole. Chi è responsabile di questa tragedia? Si è chiesto. Il capo dello Stato durante i funerali disse mai più un'altra a San Giuliano ma sono frasi dettate dalle circostanze. Ci sono stati tanti altri eventi drammatici cui sono seguite tante parole uguali ma qual è stata la tutela dei nostri figli? Presenti a questa iniziativa che si è svolta a Pescara anche Mario e Stefania Sanna, genitori di Filippo, 22enne di Amatrice morto ad una settimana dal crollo della sua abitazione in seguito al terremoto dello scorso 24 agosto. Torniamo a Sulmona. Un residente protesta e scatta la sosta vietata in via Piave. Tutti gli altri sono sul piede di guerra. Sentiamo meglio nel servizio di Andrea D'Aurelio. Scatta la sosta vietata in via Piave a Sulmona. I residenti sono sul piede di guerra. Da qualche settimana per gli abitanti della zona non è più possibile parcheggiare la propria dovettura davanti casa. Tanto è bastato per scatenare la protesta dei cittadini che segnalano in casa a un dati G. Tutto sarebbe partito dalle rimostranze di un solo residente che avrebbe convinto il comune di Sulmona a disporre la sosta vietata nella zona in questione. Da inizio maggio, dopo rivedute proteste di un solo residente che non voleva avere auto davanti alla propria finestra, il comune ha avuto la brillante idea di far diventare l'intera via sosta vietata. Osservano i residenti che riprendono. Si possono facilmente capire i disagi che tutto questo ha provocato in quanto ora tutti siamo costretti a parcheggiare in altre zone, tutte abbastanza lontane dalle nostre abitazioni. Gli abitanti di Via Piave fanno notare infine il disagio che si crea soprattutto per gli anziani, senza contare quando le condizioni atmosferiche saranno avverse. In quel caso concludono, tutto sarà più complicato. Adesso ci occupiamo di calcio perché ci sono delle importanti novità riguardanti il Sulmona, torna il Sulmona Calcio e scompare il nome sulmonese Ofena. Si registrano nel frattempo nuovi ingressi societari ed un progetto per i ragazzi del 2000 da inserire nella prima squadra che sarà affidata nuovamente al tecnico Gabriele Scandurra. Sentiamo tutto nel servizio. Riparte il Sulmona Calcio perché scompare il nome Sulmonese Ofena. La società del presidente Pier Giorgio Schiavo nelle scorse settimane ha provveduto ad inoltrare la richiesta per il cambio di denominazione che verrà ratificata agli inizi di luglio quando sarà presentato il nuovo simbolo. La decisione è stata assunta dopo l'uscita di scena della componente ex-realofena. Resta confermata invece la forte collaborazione con l'Olimpia Cedas in attesa di una possibile fusione il prossimo anno le due realtà si sono unite nel consorzio Accademia Sulmona Calcio. Abbiamo rafforzato l'unione tra Sulmona Calcio e Olympia Cedas fondendoci in un unico consorzio che si chiamerà Accademia Sulmona Calcio. Continuiamo ad essere un tutt'uno, aggiunto il responsabile dell'Olimpia Cedas, Ivan Gianmarco, nel corso di una conviviale con i ragazzi degli allievi. Li ringrazio tutti perché noi, devo dire, abbiamo un gruppo di ragazzi più importante dal punto di vista calcistico, tra i migliori in Abruzzo. Il progetto del Sulmona Calcio si rivolge proprio agli allievi che verranno coinvolti nel discorso della prima squadra. I ragazzi del 2000 faranno parte, andranno in ritiro con la prima squadra, faranno parte della rusa della prima squadra. Non saranno il 21esimo, il 22esimo, fino al 3, no. I 22, i 23, i 20, i 22, quelli che sono, il 2000 faranno parte integrante della prima squadra, andranno in ritiro con la prima squadra. Per il 2000 noi abbiamo questo tipo di offerta, cioè giocare, far parte della squadra di promozione. Il presidente Piero Giorgio Schiavo ha inoltre annunciato la conferma di Gabriele Scandurra alla guida della prima squadra. Nel frattempo si sta lavorando per allestire l'organico. Che squadra nascerà? Al 100% saranno giovani del territorio, quindi della Valle Peligna. Stiamo individuando due o tre figure di esperienza che possono permettere a questi ragazzi di poter crescere ed affrontare questi campionati che sono comunque importanti, quello della promozione, per poter portare a noi delle soddisfazioni in termini di vittorie. Altra novità importante rappresentata da nuovi ingressi societari. pronti a dare il loro contributo Tonino Angelone e Giovanni Meo, che già nel passato hanno sostenuto la causa del Sulmona Calcio. E dopo il calcio ci spostiamo alla musica. One Hope, sei giovani di Sulmona, in finale al concorso di video musicali online. Il servizio è di Andrea D'Aurelio. Metti la voglia di realizzare un sogno, condisci il tutto con fede e musica ed ecco che viene fuori un risultato perfetto. E' il caso di One Hope. Il gruppo musicale è nato quasi da un anno, precisamente nell'agosto 2016, che vede sei giovani di Sulmona, protagonisti del singolo Solo L'Amore. Il videoclip è già diventato virale sul web ed ora, domenica 18 giugno, si gioca la finalissima nel contest nazionale Talent Factory, il concorso di video musicali online. E' lotta all'ultimo clip, ma i componenti della band One Hope si dicono già soddisfatti dei risultati ottenuti. Sì, allora, votarci è molto semplice. Basta andare su talentfactory.it, effettuare il login tramite un account Google, quindi un account Gmail, oppure tramite Facebook, che è anche molto più semplice sicuramente. Una volta effettuato il login, vi basterà cliccare sul nostro videoclip, che è appunto Solo L'Amore. Nasce da un sogno che avevo fin da bambino, quello di unire la mia fede all'amore per la musica. E dopo un anno ci ritroviamo qui a fare le prove, a partecipare a questo concorso. Penso che questa canzone può arrivare dritto al cuore di chi la ascolta e interpretare l'amore secondo i propri sentimenti e il proprio stato d'animo. Beh, il gruppo è stato molto importante. Io sono l'ultimo arrivato della band. E' stata anche una bella esperienza. Amore è il filo conduttore del loro singolo. Amore verso Dio, ma anche verso gli altri. Sta per finire il countdown per la finale di domenica. E sulla pagina Facebook della band sono disponibili tutte le istruzioni per votare il singolo. In bocca al lupo a Mario Verrocchi, chitarra, autore e voce. Daniele Colangelo, batteria. Stefano Di Sanza, basso e voce. Luca Di Vito, chitarra. Giacomo Di Placido, chitarra solista. Tiziano Di Fonte, piano e tastiere. E torniamo allo sport perché dal 17 al 21 giugno il palaghiaccio Giuseppe Bolino di Roccaraso sarà la cordice dell'ottavo trofeo nazionale sordienti ed allievi regionali. E dal 22 al 25 giugno i campionati italiani allievi A e B di singolo, coppia artistico e coppie di danza. E dunque ci sarà questo appuntamento importante di pattinaggio a Roccaraso. Pattinaggio dunque di alto livello. Appuntamento che per circa dieci giorni chiameranno a raccolta nel centro turistico dell'Alto Sangro centinaia di persone, tra atleti, accompagnatori, allenatori e organizzatori. Si rafforza così la collaborazione tra il comune di Roccaraso e la Federazione Italiana Sport Rotellistici che negli anni scorsi ha permesso al centro montano di essere sede degli appuntamenti più importanti di questa disciplina, cominciare dai campionati europei e mondiali. E dunque anche per il 2017 Roccaraso sarà sede dello stage federale per la specialità di singolo. Appuntamento questo dal 31 agosto al 2 settembre. Dopo questa notizia non ci sono altri aggiornamenti. Possiamo così quasi concludere questa edizione del giorno del nostro telegiornale. Ma come al solito prima dobbiamo vedere i film in programmazione alla multisala a Ijoland di Corfino. In questo periodo c'è solo una proiezione alle 21.10. I film sono tre. La mummia, Pirati dei Caraibi, La vendetta di Salazar, Wonder Woman. È tutto per questa edizione del giorno del nostro telegiornale. Grazie della cortesa attenzione. Prossimo appuntamento con l'informazione in diretta questa sera alle ore 20. Ci salutiamo con il meteo. Buona giornata a tutti voi. Sulla nostra regione condizioni di cielo prevalentemente sereno, poco nuvoloso, con possibili annuvolamenti, specie sulle zone montuose, in estensione verso il settore orientale. In nottata è previsto un graduale aumento della nuvolosità, con instabilità in aumento sull'Adriatico centro-settentrionale, dove sono attessi temporali, fenomeni che occasionalmente potrebbero interessare anche il Teramano e il Pescarese, specie in tarda nottata, mentre nella giornata di domani assisteremo ad un deciso aumento dell'instabilità che si tradurrà con un deciso aumento della nuvolosità sulle zone interne montuose, nuvolosità associata a rovesci, a manifestazioni temporalesche localmente di forte intensità, in estensione verso le zone pede collinari e localmente lungo la fascia costiera. Temperature in ulteriore lieve aumento, venti deboli a regime di brezza, in nottata non si esclude un temporaneo rinforzo dei venti dai quadranti settentrionali, mare generalmente quasi calmo, poco mosso, con moto ondoso in aumento. Grazie per la visione!